Adesso c'è un bel impegno per la Nazionale Azzurra in Brasile, un torneo importante che dovrà magari aggiungere un po' di esperienza internazionale a queste ragazze. L'obiettivo nostro è sempre stato questo, cercare di dare un qualcosa in più a queste ragazze con partiti importanti, di qualità. Andiamo in Brasile domani e abbiamo un quadrangolare con Brasile, Brasile da Limarche e Cile e noi, quindi devo dire che di altissimo livello e prestigio. La speranza nostra è sempre di crescere, di fare qualcosina in più di quello che stiamo facendo. Tra l'altro un bel cammino le qualificazioni europee, possiamo dire già a buon punto anche se poi c'è tutto il girone di ritorno, però la vittoria con la Russia e poi le successive partite hanno detto che l'Italia c'è. Sì, stiamo facendo bene, devo dire onestamente, 5 partiti e 5 vittorie, siamo primi in classifica, abbiamo un buon vantaggio, bisogna conservarlo, bisogna crescere, bisogna pensare che il domani è sempre difficile, quindi il traguardo è ancora lungo.